Bentornati! Questa è la prima di una serie di lezioni di approfondimento sul compositing in Blender. Abbiamo già parlato di compositing nel corso base e anche in altri tutorial all'interno di questo canale. Se avete piacere di trovare questo e altri argomenti molto velocemente, ho creato per voi un indice delle lezioni che manterrò aggiornato nel tempo e che si trova nel sito blenderclick.it. Andate nell'indice delle lezioni e qui troverete i link ai video presenti sul canale di YouTube. Se ancora ne mancano comunque li aggiungerò, però sono già presenti tutti i video del corso base, tutti i video sul corso di modellazione. Quindi se vorrete trovare un argomento particolare, ad esempio il compositing, abilitando la ricerca testuale all'interno del sito, potrete trovare velocemente l'argomento che vi interessa, ad esempio l'introduzione al compositing. Bene, ma che cos'è il compositing? Il compositing in Blender è una tecnica di post-produzione che consente di combinare più immagini o più sorgenti, vedremo poi di cosa stiamo parlando, per creare un'immagine elaborata finale. Questo serve per dare quel tocco finale al nostro lavoro, oppure proprio per combinare insieme più immagini differenti in maniera analoga come si potrebbe lavorare con i layer in Gimp. Inoltre, a partire dalla versione 3.5 di Blender, ci viene data la possibilità di vedere in tempo reale cosa accade quando andiamo a modificare il compositing all'interno della viewport 3D. Partiamo col vedere un esempio velocissimo di compositing. Questa è una scena di base di cui adesso lanceremo il rendering. Abbiamo già visto nel corso base come si inquadra una scena e come si lancia il rendering, quindi lanciamolo immediatamente e vediamo che Blender ci apre una nuova finestra che contiene l'Image Editor, lo vediamo qui in alto dal selettore, e questo Image Editor ci fa vedere appunto un'immagine che contiene il render result, ovvero il risultato del rendering. Quello che possiamo fare una volta ottenuto il nostro rendering è quello di passare alla fase di compositing per andare a migliorarlo, modificarlo, aggiungere elementi o modificarne alcuni aspetti. Chiudiamo la finestra Blender Render e andiamo ad attivare il Layout Compositing. Questo Layout non è altro che una disposizione diversa di finestre rispetto a quelle di default, quindi è sempre Blender ma semplicemente con delle finestre disposte in maniera diversa. Abbiamo qui in alto l'editor chiamato Compositor, lo vediamo qui dal menu in alto a sinistra in cui possiamo vedere appunto che è attiva l'icona del Compositor. E in basso abbiamo l'editor Dopsheet che però adesso non andremo ad utilizzare. Facciamo clic su Use Nodes per abilitare l'uso dei nodi. Compaiono due nodi, uno di Input e uno di Output. Abbiamo parlato dei nodi già nel corso base, quando abbiamo parlato di materiali, ma anche quando abbiamo parlato appunto di Compositing. Quindi se volete andare a rivedere velocemente questi concetti potete cercarli attraverso l'indice che vi ho mostrato. Tuttavia guardiamoli un attimo insieme. I nodi sono una sorta di pezzettino di codice, di algoritmo, che prende dati a sinistra, li elabora e li ributta fuori sulla destra. Nel caso dei nodi di Input, come ad esempio Render Layer, non abbiamo dei dati in ingresso sulla sinistra, perché appunto è un nodo che nasce per darci delle informazioni, quindi non ne riceve. Mentre il nodo Composite non ha dei dati in uscita a destra, ma ha soltanto dei dati in entrata, a sinistra. Quindi il flusso va da sinistra verso destra. Tutto ciò che sta in mezzo, che passa attraverso questa linea di connessione, saranno ulteriori nodi che serviranno per modificare il nostro risultato finale. Per vedere in tempo reale che cosa stiamo facendo, possiamo utilizzare un nodo di tipo Output chiamato ViewerNode. Con Shift-A richiamiamo il comando Add, andiamo nel sottomenu Output e selezioniamo il nodo Viewer. Questo è il nodo che ci permette di visualizzare ciò che sta succedendo all'interno della nostra scena. Se andiamo a collegare l'uscita Image all'input del nodo Viewer, vediamo che compare nello sfondo dell'editor la nostra immagine. Con l'abbrevizione da tastiera Ctrl-Spazio abbiamo la possibilità di massimizzare l'editor e quindi far sparire tutti gli altri. In realtà non sono scomparsi ma sono stati momentaneamente nascosti. Per tornare alla visualizzazione precedente premiamo di nuovo Ctrl-Spazio oppure premiamo sul tasto Back to Previous. Possiamo ingrandire o ridurre la dimensione dell'immagine di sfondo con il tasto V o con la combinazione di tasti Alt-V. In alternativa possiamo agire su questi quattro punti di controllo per andare a modificare direttamente la dimensione dell'immagine risultante. Cliccando e trascinando su questa X invece andiamo a spostare proprio l'immagine. Utilizzando invece la rotella del mouse possiamo ingrandire o diminuire il set di nodi e quindi cliccando sulla rotella del mouse possiamo spostarli come si naviga normalmente in un editor. Abbiamo visto che ci sono due nodi d'uscita. Il Composite che serve per salvare la nostra immagine finale, vedremo poi come, e il Nodo Viewer per vedere in tempo reale che cosa sta succedendo. Tuttavia vediamo che ci sono due connettori che escono dal valore Image di Render Layer e tutte le volte saremo costretti a mettere i nodi in entrambi i collegamenti. Per fare prima esiste un comodissimo elemento che si chiama Reroute che possiamo inserire con la combinazione Shift-A per richiamare il comando Add. Andiamo nel gruppo Layout e selezioniamo Reroute. Vedete compare questo pallino giallo, lo andiamo a inserire in uno dei due collegamenti. Quindi andiamo a cliccare sempre sul pallino e trasciniamo il collegamento sul nodo, per esempio, Viewer. Adesso l'informazione Immagine arriva al nodo Reroute e poi viene ridistribuita sia al nodo Composite sia al nodo Viewer. Così facendo avremo una situazione molto più ordinata e più semplice da gestire. Se volessimo spostare il Reroute, questo pallino giallo, non possiamo cliccare e trascinare perché Blender interpreterebbe questa nostra volontà nella creazione di un nuovo collegamento. Come fare allora per spostare questo elemento? Bene, come faremo all'interno della Viewport 3D con una qualsiasi mesh, un qualsiasi oggetto? Premiamo il tasto G. Il tasto G richiama il comando Grab che ci permette lo spostamento. Come nella Viewport 3D possiamo vincolare lo spostamento sull'asse X e Y premendo i relativi tasti. Stavamo parlando di un esempio veloce di Compositing. Andiamo a variare per esempio il colore dell'immagine. Con Shift A andiamo a richiamare il comando Add e nel gruppo Color andiamo a selezionare Color Balance. Compare un nodo che questa volta ha dei connettori sia a sinistra sia a destra. Cosa vuol dire? Vuol dire che prende informazioni dalla nostra sinistra, le elabora e le butta fuori sulla destra. Quali sono i tipi di informazioni? Lo vediamo dal colore dei connettori. Quando vediamo un pallino colorato di giallo vuol dire che stiamo trattando delle informazioni di tipo colore, quindi delle immagini, delle informazioni di tipo RGB. Quando invece troviamo un pallino grigio vuol dire che stiamo trattando delle informazioni di tipo numerico o anche delle immagini in bianco e nero. Per esempio il canale Alpha è una sorta di immagine che ci permette di distinguere se un determinato pixel è trasparente oppure no. Con dei valori che vanno da 0 a 1 per ogni singolo pixel ci verrà mostrato tramite questo canale la trasparenza dell'immagine. Vedremo poi più avanti degli aspetti pratici. Tornando a noi abbiamo inserito questo nodo Color Balance. Lo andiamo a trascinare sulla linea di collegamento tra Image e i nodi di Output. Vediamo che quando il nodo va sopra la linea di collegamento questa diventa bianca e Blender con questo ci informa che ha capito che vogliamo inserire il nodo all'interno di questo collegamento. Quindi lasciamo il mouse e vediamo che in automatico l'informazione Image è stata connessa con l'omonima informazione del Color Balance e in Output Image è stato a sua volta connesso con il Reroute per andare a finire in Composite e in Viewer. Questo nodo in particolare ci consente di andare a variare il bilanciamento del colore. Adesso non entraremo nel dettaglio, facciamo una prova. Per esempio andiamo a variare alcuni di questi colori e vediamo come questi vengono modificati nella nostra immagine. Il valore Factor è un valore che va da 0 a 1, potete fare clic con il cursore del mouse e trascinare per variare questo valore ed è la quantità di applicazione di questo nodo rispetto alle informazioni che gli passano attraverso. Quindi se imposteremo un valore pari a 0.5, vorrei dire che questo nodo influenzerà la nostra immagine soltanto per un 50%. Se lo impostiamo a 1 invece l'influenza sarà al 100%. Proviamo a inserire un altro nodo, ad esempio Distort, Lens Distortion e lo andiamo a mettere subito dopo il nodo Color Balance. Proviamo a dare un valore di distorsione e vediamo come l'immagine viene modificata anche in maniera piuttosto importante. In qualsiasi momento possiamo vedere com'era l'immagine di partenza tenendo premuto il tasto CTRL-SHIFT e facendo clic sul nodo Render Layer. Così facendo Blender crea un collegamento veloce direttamente al nodo Viewer. Se facciamo CTRL-Clic e premiamo sul Color Balance, il collegamento viene fatto invece dal nodo selezionato, scavalcando tutto ciò che viene dopo, quindi Lens Distortion. Infine se vogliamo tornare a vedere esattamente quello che avevamo previsto nel nostro schema di nodi, possiamo fare sempre clic con CTRL-SHIFT e premere sul Reroute. Quindi molto velocemente possiamo passare a vedere i vari passaggi, le varie fasi del nostro gruppo di nodi per vederne l'effetto. Vediamo infine come salvare la nostra immagine quando abbiamo terminato il nostro compositing. Diciamo che questo è il risultato che volevamo ottenere e quindi lo vogliamo salvare. Per fare ciò abilitiamo l'editor Image Editor, selezioniamo dal menu a tendina il Viewer Node, quindi andiamo su Image e clicchiamo su Save. Bene, prima di terminare questa lezione andiamo invece a vedere come fare per attivare in tempo reale il compositing in modo da poterlo vedere all'interno della viewport 3D. Facciamo clic su Back to Previous, quindi torniamo al layout di default facendo clic sul pulsante layout qui in alto. Per abilitare la visualizzazione del compositing facciamo clic nel menu a tendina che si trova alla destra del menu shading e quindi clicchiamo su Camera se vogliamo abilitare il compositing solo nella vista camera oppure in Always se vogliamo abilitare il compositing sempre. Vediamo la differenza, clicchiamo su Camera. In questo caso mi dice il compositor non è supportato in questa piattaforma. Apro quindi le preferenze di Blender, vado in System. In questo momento sto utilizzando un computer Apple, quindi abilito la GPU Metal e riavvio Blender per poterlo far funzionare. Ecco una volta riavviato Blender i pulsanti vengono abilitati e in vista camera vedo l'effetto del compositing ma se ruoto la visuale questo effetto sparisce. Andiamo a cliccare invece adesso su Always per vedere che questo effetto viene applicato da qualsiasi punto di vista. Questo può avvenire perché in realtà quando noi guardiamo qualcosa attraverso la viewport 3D in realtà stiamo guardando attraverso una sorta di camera virtuale e quindi queste distorsioni e questi cambi di colore vengono applicati in tempo reale proprio a questa camera virtuale che ci consente di vedere attraverso la viewport 3D. Bene, per questa lezione è tutto. Se avete piacere di ricevere aggiornamenti vi invito a iscrivervi al canale. Nella descrizione di questo video troverete i link agli argomenti trattati in questa lezione. Troverete anche la possibilità di scaricare le dispense di questo corso. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito e ci rivediamo presto. Grazie. Grazie.